Ha poca voglia di parlare di coronavirus e problemi. Il governatore della regione campagna Vincenzo De Luca oggi ha sorpresa giunto all'inaugurazione del tratto del trincerone esta a Salerno dopo dieci anni di lavoro, poche battute sulla permanenza in arancione della campagna ed il solito ripetuto appello alla responsabilità per evitare il rischio di tornare in zona rossa durante l'estate. Sono poche le battute strappate al presidente della regione campagna che appare di buon umore e certamente felice di poter annunciare il completamento di due opere strategiche e fondamentali che da sindaco ha seguito in maniera molto precisa e dettagliata e che ha fortemente voluto e che oggi gli danno il là per parlare della Salerno del futuro, quella che Vincenzo De Luca ha sempre immaginato. Ovviamente per il trincerone esti il governatore ricorda che ancora non sono stati completati i lavori ma si illumina quando i cronisti gli chiedono di parlare del completamento di Piazza della Libertà. Sì, 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 a breve Piazza della Libertà che è uno dei simboli della nuova Salerno. Vi ricordate Piazza della Libertà? Vi ricordate quanto ci è costato questo progetto? Non voglio ricostruire la storia perché non mi voglio intossicare il fegato di nuovo. Provate a immaginare, quella è la città che abbiamo sognato, provate a immaginare questa spiaggia che comincia da Santa Teresa, vi ricordate? Stanno togliendo la spiaggia di Santa Teresa. La spiaggia di Santa Teresa si è triplicata e poi immaginate il lungomare che ha di fronte una spiaggia di 100 metri di profondità, fino a Piazza della Concordia, poi a Torrione, poi a Mercatello, ci siamo arrivati ormai, fino a Ponte Cagnano. Cambia il destino di Salerno, la sua immagine. Dobbiamo essere bravi, come sempre, a conservare queste belle cose che realizziamo, per le quali qualcuno di noi ci ha rimesso la vita. Grazie a tutti.